Musica Secondo lei, Assessore, i cittadini di Avigliana, più in generale la popolazione della bassa valle, sarebbe pronta per un salto di mentalità con l'utilizzo del carpooling? Allora, penso che i ragazzi giovani siano molto più motivati in questo senso. Noi abbiamo effettivamente una parte della popolazione che si sposta verso Torino quotidianamente o per lavoro o per studio, ma mentre le persone adulte hanno tutta una serie di problematiche legate anche alla gestione della famiglia, dover andare a accompagnare i bambini a scuola, riprenderli la sera e tutta una serie di altre incombenze, per i ragazzi che invece vanno a Torino per studiare è forse più semplice riuscire a mettersi assieme e condividere anche gli spostamenti. Io credo che se prendiamo l'esempio dai nostri cugini, i vicini francesi, da questo punto di vista potremmo anche fare una serie di azioni all'interno delle scuole e cercare di convincere la popolazione più giovane e più libera da incombenze di altro tipo. Quindi ci proveremo. Certo, i dati sull'ambiente dicono che Avigliana ha lavorato per tempo, in realtà il territorio metropolitano di Torino ha una serie di problematiche dal capoluogo in avanti. Iniziative come questa del carpooling, del car sharing sono una soluzione? Sicuramente sì, perché sappiamo tutti la congestione che c'è andando verso i centri metropolitani e quindi diminuire fin dalla provincia il numero di persone che accede a Torino in auto direi che è essenziale proprio per diminuire traffico, inquinamento e anche per la salute psicologica delle persone che impazziscono la mattina per riuscire a entrare in città. Grazie.